ben trovati a giovani in pinelli oggi è giovedì e parliamo di pallavolo in questo appuntamento con obiettivo sport perché se giocando lo scorso fine settimana sportivo civile vecchiese personalmente ho visto la gara sartorelli aspo che ha perso per 3 a 1 purtroppo in casa al palosporto in solea tramagnini contro la formazione avversaria che era quella del casalbertone che ha già sconfitto i dosso blu la scorsa stagione nei playoff è iniziata bene però la gara per quanto riguarda il sestetto di franco a carto che ha vinto il primo setto poi c'è stata la rimonta da parte della compagine giallonera romana che ha vinto successivi tre parziali ha portato a casa quindi questa vittoria importante la porta di brunelli che ha realizzato 29 punti durante questa partita brunelli che non sta giocando più come centrale è stato spostato in posizioni di opposto con olivastri che va a giocare come centrale per cui subito grande prestazione da parte del giocatore originario di 90 di viave in provincia di venezia per il resto c'è da dire una squadra troppo nervosa però questa situazione che è già accaduta nelle scorse partite addirittura due rossi sono stati dati alla sartorelli asper quindi due punti regalati agli avversari anche tante battute sbagliate per quanto riguarda i civitavechiesi vengono sempre in zona bassa della classifica attendono mai le prossime partite come quella sul campo della norma vinti che sarà nelle prossime settimane allo sportivo civitavecchiese invece la magutta insomma invece mica tanto perché ha perso 3 a 0 è caduta sul campo di cisterna latina ha perso contro l'omia per cui perde contatto all'inverso della classifica invece sarà l'impegno contro lo zaga loro sabato prossimo al palasporto del sole da mediti per cui si spera di recuperare il terreno nei confronti delle battistrata. Sì qui questo appuntamento obiettivo sport grazie mille per l'attenzione ci vediamo domani con tutti gli appuntamenti dei finiti settimane allo sportivo con le conseguenze tre scelte qui dell'obiettivo sport. Grazie mille per l'attenzione ci vediamo domani e buona giornata. Grazie mille per l'attenzione ci vediamo domani e buona giornata! Grazie mille per l'attenzione ci vediamo domani e